è un osservatorio che tende solo a monitorare questo processo perché noi abbiamo una legge cornice e adesso c'è tutto un procedimento da mettere in atto che va dalla definizione dei leps agli accordi fra lo stato e le regioni cioè ogni regione poi sceglierà quali quali materie vorrà assumere pertanto c'è una lunga strada da fare sulla quale noi riteniamo di essere garanti come partito nazionale delle esigenze di tutti gli italiani del nord e del sud